Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake goloso Vinderbuene cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina di tipo doppio zero, fegola di patate, uova, burro morbido, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, vanillina, sale, lievito per dolci vanigliato, latte, Kinder Bueno, Kinder Cioccolato e Nutella. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova, la vanillina ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 6. Aggiungere lo yogurt, l'olio, il latte, il sale, il burro, la farina, la fegola ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 6. unire il lievito ed amalgamare per 30 secondi a velocità 5. il composto è pronto, versarne metà in uno stampo da plum cake da 28 centimetri ben imburrato. Posizionare sia il Kinder Bueno che il Kinder Cioccolato alternandoli. mettere un po' di Nutella il Kinder Bueno e il Kinder Cioccolato alternandoli. mettere il Kinder Bueno e il Kinder Cioccolato alternandoli. cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. il plum cake è cotto, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. decorare con Kinder Bueno, Kinder Cioccolato e Nutella e servire. plum cake goloso, Kinder Bueno e Cioccolato. grazie e alla prossima ricetta grazie e alla prossima ricetta